Ancora qui dalla sfattoria degli ultimi in compagnia di Andrea Cisternino, noto attivista per i diritti animali che ci raggiunge dall'Ucraina. Andrea, cosa ti ha spinto ad essere qui presente oggi? Mi ha spinto l'aver conosciuto questa storia tramite prima i social e poi ho contattato Paola, ci siamo sentiti, mi sono attivato subito con dei miei canali in Italia per dargli una mano e chiaramente coordinandomi con Paola, dopo ho deciso di venire qui a dare un mio piccolo contributo e essere presente comunque in un posto dove vogliono fare violenza e arrivando da un paese che è in guerra. Quindi spero veramente che tante voci unite insieme possano veramente risolvere questo problema che secondo me si può risolvere in maniera falsifica.